Si chiama Fanta MTB, la prima app di fantaciclismo nel mondo della mountain bike e ti consentirà di vincere ben 13.000 euro di premi reali. Come? Semplicemente creando il tuo team e scommettendo sui risultati delle gare di Coppa del Mondo. Enduro, downhill e cross country, le discipline. Puoi trovare tutti gli atleti del fuoristrada con foto, palmarès e biografia. In aggiunta Fanta MTB ha un archivio storico unico al mondo. Catalogate tutte le Coppe del Mondo, Mondiali e Olimpiadi di BMX, Enduro, Marathon, Four Cross, Downhill e Cross Country. Comprese le nuove discipline di Short Track e Team Relay. Come se non bastasse, presenti oltre mille schede relative ad atleti storici che hanno fatto la storia della mountain bike. Ma cosa stai aspettando? Che i tuoi amici vincano una mountain bike giocando al Fanta? Scarica subito l'app! Fanta MTB inizia una nuova era della mountain bike. Fanta MTB!